Il giorno e la storia. Oggi è il 10 novembre. 1928. Giappone. Irohito incoronato imperatore. 1971. Cambogia. I Khmer russi attaccano l'aeroporto di Phnom Penh. 1975. Trattato di Osimo. L'Italia rinuncia alla zona B di Trieste. Commenta il fatto del giorno Alberto Faustini, direttore dell'Adige e dell'Alto Adige. Con Martino Lutero nasce il protestantesimo, una rivoluzione all'interno della Chiesa. Oggi parlerò di questo.